C'era tanta attesa in città, Marsala Conigliano, tanta attesa più che altro per vedere il nuovo tecnico del Marsala, stiamo parlando di Terra Nova, accorto benissimo dal pubblico marsalese, andiamo con ordine, la tenda arbitrale, i 22 in campo entrano in terreno di gioco, inizia la gara, il Marsala diciamo che nel primo tempo, la dobbiamo dire tutta, inizia una partita diciamo bella più nel secondo tempo che nel primo tempo, diciamo che il Marsala nel primo tempo ha trovato il gol su un calcio piazzato, diciamo Balisseri in area di rigore, ha messo diciamo in rete, poi è stata diciamo toccata anche dal portiere del Conigliano, e Marsala passa in vantaggio nel primo tempo, poi il Conigliano con un tiro in porta, trova il pareggio, finisce il primo tempo al municipale 1 a 1, poi nel secondo tempo il tecnico al minuto trentesimo, ha fatto un cambio, esce, è uscito Patulano, diciamo che anche su Patulano c'era un calcio di rigore dove il direttore di gara non ha dato al Marsala, però tutto è tornato subito in regolarità, poi diciamo che il tecnico Terranova ha cambiato un attaccante per un attaccante, è uscito Patulano, è andato Marierano, e lì cambia la partita, perché? Perché entra il giocatore Maruiano e poi tutto cambia, con un bel tiro la palla entra in rete, dunque cambia il parziale al Nino Lombardo Ancorta di Marsala, Marsala in vantaggio sul Conigliano al trentaduesimo del secondo tempo, poi non succede più nulla, diciamo, il Conigliano cerca di, diciamo, di farsi avanti, ma nulla di che, perché il Marsala si difende bene, dunque Marsala che torna alla vittoria in casa, dopo il cambio del tecnico, un Conigliano che negli ultimi 20-10 minuti circa ha messo in difficoltà il Marsala, il Marsala però si è difeso bene, poi il direttore di gara ha dato 4 minuti di recupero e dopo di che la partita è finita, il Marsala trova la prima vittoria taggata a Terranova, adesso bisogna preparare bene la prossima rispetta che è davvero molto interessante perché ci sarà un altro scontro diretto per la salvezza, dunque poi ci saranno le festività natalizie e Terranova con il suo staff dovrà cercare di preparare bene per il ritorno perché un campionato di ritorno sarà tutto diverso, dunque in settimana ci dovrebbe essere anche la presentazione del tecnico Terranova ma non abbiamo ancora la certezza la data e il giorno della presentazione ma sappiamo che in settimana ci dovrebbe essere la presentazione ufficiale, questo era l'editoriale del post partita, Marsala ricordiamo, Marsala batte Conigliano 2-1 la rete di Balicere e Magliorano nel secondo tempo.